App2Go è una realtà attiva da 10 anni nel segmento della mobilità sostenibile casa scuola e casa lavoro. Con l'applicativo di App2Go, che è il prodotto principale dell'azienda, è infatti possibile rendicontare, incentivare e monitorare gli spostamenti sostenibili che si effettuano nell'andare a casa o nello spostarsi per motivi di studio. L'app consente quindi di scambiarsi passaggi in auto, di monitorare e rendicontare i propri viaggi in bicicletta o con il trasporto pubblico, ad esempio. E grazie a questa funzionalità è possibile anche accumulare dei crediti premiali per riscattare delle gratuità o degli omaggi che sono presenti all'interno dell'applicativo stesso. Inoltre, cosa molto importante, l'applicativo restituisce all'utente in maniera immediata il risparmio di CO2 non emessa grazie a questo spostamento sostenibile. Con l'Università di Pavia dal 2022 abbiamo il piacere di collaborare al progetto Active2Work, mettendo a disposizione in maniera gratuita per studenti e dipendenti l'applicativo App2Go. L'applicativo App2Go è pensato per essere facile e di immediato utilizzo. Quindi, scaricando l'applicativo, registrandomi con il codice che vi sarà fornito dal vostro Ateneo, sarà possibile immediatamente inserire, ad esempio, dei percorsi in bici. La cosa importante è che il percorso sia sempre un casa lavoro o un casa scuola, per così dire, quindi che la destinazione di arrivo o di partenza sia quella identificata dal vostro Ateneo di riferimento.